E siamo alla seconda del convegno, è volato un altro anno e i puliti di due anni al debutto. E siamo con la lettera B, signori. Sono in dieci, otto in prima, due in seconda e c'è un favorito netto, quello di Vipi dell'Annunziata, con la griffa di Tiberio Cicere, Bladewise AS, lui gettonatissimo al totalizzatore. Ricordiamo la scomparso di Adriano Cirea, aveva una grande cavalla, si chiamava Adriana, e anche Ecclez, è stato uno dei migliori guidatori che abbiamo avuto. Lo salutiamo. Va via la macchina in velocità. C'è lotta per il comando e poi emerge nettamente Bizet, Rab con Giorginio, nei confronti di Barolo Jet, che potrebbe parcheggiare. Cauto Bladewise AS. Quattordici e un battito lungo i birilli, Brando Cass serra e taglia, decisamente Barolo. Ci va al completamento e la piegate anche del quarto iniziale. Quarto iniziale che se ne va in 31. Per linea esterna è Bruccione Fass, per linea esterna è Bladewise AS. Più pariglia al completamento dei 600. 600 che se ne vanno nell'ordine del 46 e un battito 15-1 di frazione. L'errore di Barolo. E così rimane solitario in testa, almeno per il momento, Bizi Rab. Cavale sulla penultima curva, con il Vidar di Giorginio, che completa il mezzo miglio in 1,3 e mezzo. Ed è la volta di Bruccione Jet, il figlio di Bruccione Jet, targato Fass, a farsi notare, pedinato come in ombra, da Bladewise che poi si affaccia e punta in avanti. 19,3 il chilometro e lo Yankee Glide di Vipi dell'Annunziata supera Bruccione e si avventa sul galoppante Bizi Rab. 400 alla meta, 14,8 fanno 1,34, 1 i tre quarti di miglio. E lo Yankee Glide al comando. Va lì al completamente la curva finale, si fa notare Pignatelli con il suo nof, Beware nof. E mentre deve essere sollecitato alla grande da D'Artagnan, che vuol fare già il double, e infatti se ne va, se ne va, se ne va. Facile alla meta, Bladewise ancora da venire avanti in costruzione. Ma chi corre alla grande è anche quello di Pignatelli, Beware nof, che prende una seconda moneta, veramente bellissima, e terzo è Brando Cass con il Petit Francesin. 1,50 la quota, Tiberio Cecere, Vipi dell'Annunziata, mentre i colori sono della Bivans, in un momento spettacolare, e salutiamo con piacere Antonio Somma. È tutto per il momento, linea allo studio.